Che competenze dovrebbe avere una persona per poter svolgere e ricoprire questa posizione? Sì, allora ci sono una serie di competenze hard, hard skill e delle competenze soft. È chiaro che innanzitutto per essere un CTO una persona deve avere una leadership tecnologica, il che non significa che deve essere per forza anche il principale esperto in azienda di tutte le tecnologie, ma sicuramente è un esperto di tecnologia in senso ampio, è un tecnologo, ok? Perché poi magari soprattutto che l'azienda cresce nel tempo può avere anche delle figure specializzate che riportano al CTO, quindi deve essere in grado semmai di costruire quella visione di cui parlavo anche prima d'ampio raggio, quindi deve essere in grado di lavorarla, questa visione, in un contesto che poi aziendalmente di mercato è sempre più variegato e dinamico, quindi deve avere certamente queste competenze tecniche che poi un po' alla volta si alzano di livello. Poi sicuramente deve essere orientato al business e ai clienti, soprattutto poi in certi tipi di settori, che significa che qui già iniziano ad essere un pochino più importanti anche peraltro le soft skill, quindi diciamo che a questo punto, nel momento in cui, come ho detto prima, la tecnologia e il core business lo fa funzionare, un CTO deve avere anche un'ottima comprensione di quelle che sono le esigenze dei clienti e di che tipo di prodotti, piattaforme e servizi queste persone hanno bisogno. E quindi è anche su questo che ci deve essere quel collegamento che dicevo prima tra le esigenze del business e della tecnologia, perché deve essere bravo a trasformare queste esigenze in qualcosa che fa funzionare una piattaforma, ad esempio. Quindi qui in generale siamo un po' più, come dicevo, su hard skill. Poi ce ne sarebbero tanti altri volendomi dire, ma questi sono i più importanti. Poi passiamo invece a quelli che sono più soft skill. Anche qui ne possiamo dire tanti, ma a livello macro deve saper gestire le persone. Poi dopo qui possiamo anche entrare nel dettaglio, sono tante sfaccettature. Però diciamo che in questo saper gestire le persone ci sta anche tutta una parte di comunicazione, inteso sia persone del proprio team che le persone con cui si deve relazionare, che magari sono figure più business e quindi magari cambia anche il tipo di linguaggio. Quindi è anche per questo che deve avere tutta una serie di soft skill che sicuramente sono molto importanti. Voglio chiederti, quanto è importante per una persona che deve ricoprire questo ruolo conoscere e formarsi a riguardo la leadership? Sì, allora, con leadership sicuramente rientra a sua volta nel capitolo soft skill in maniera molto importante ed è sicuramente una parte fondamentale e peraltro anche una di quelle più difficili per un CTO. Questa parte qui di leadership e soft skill in generale. Poi possiamo entrare nel dettaglio, ma diciamo che tipicamente pensiamo anche un po' quella che è la crescita tipica di un CTO. Come dicevo prima, spesso nasce come sviluppatore e poi si evolve nel tempo. Magari viene promosso all'interno di un'azienda perché questa è cresciuta. Magari è lo sviluppatore iniziale che ha creato tutto. E cosa succede? Che bravissimo tecnicamente si ritrova a un certo punto a dover gestire delle persone. Magari quindi il proprio team tech. e al contempo relazionarsi con l'esterno o con comunque delle funzioni business interne. Ecco che qui entra molto in difficoltà perché questi soft skill non li ha mai magari potuti far crescere. Non ha avuto delle fonti dove studiarle o esercitarsi. Soprattutto pensando poi che molte volte anche le figure di questo genere qui sono un po' per natura, un po' più tendenzialmente, adesso è una generalizzazione, però un po' più introverse, un pochino più si applicano a cose come appunto il codice, l'infrastruttura. Sono persone molto appassionate di queste cose qua. E quindi magari non hanno poi mai coltivato quelle parti qui più di leadership o di soft skill. Ma io dico sempre, ripeto lo sfinimento, che oggigiorno lo sviluppo di software e di prodotti digitali è più un problema di persone che non di tecnologia. Perché la tecnologia, bene o male, abbiamo soluzioni un po' per tutto, abbiamo continuamente nuovi paradigmi, nuovi sistemi cloud, nuovi linguaggi, nuovi framework. Ormai non è quello il problema. Il problema, e questo emerge anche dall'opera di consulenza che faccio con dei miei brand, con le tech companies, è proprio questa parte qui di leadership, di team, di gestire le persone. Qui che ci si perde molto. E questo è ancora più importante nel contesto odierno, perché in un mondo un po' in ebollizione come quello tech, in cui ormai i talenti non si fermano più per tanti anni in una stessa azienda, e l'abbiamo visto soprattutto proprio in questi anni di pandemia, che c'è un turnover micidiale, ecco che ulteriormente il focus si sposta dalla tecnologia alle persone. Quindi anche qui, di nuovo, diventa importante questa parte di leadership, perché possiamo dire che un po' la massima sfida di un manager, come un CTO, perché un CTO è un manager, dicevamo, no? Diventa a questo punto quella di estendere il più possibile il lasso di tempo in cui un talento tech, una persona brava, possa lavorare con soddisfazione per l'azienda. E peraltro, eventualmente, aiutarlo nel percorso, anche quando decidi di cambiare. Quindi a questo punto è importante avere queste doti di leadership che vanno appunto apprese e coltivate. E qui c'è molta difficoltà. Quindi soprattutto questo poi serve anche in termini di skill con le persone per individuare, far crescere e sviluppare tutte quelle capacità e talenti delle persone che lavorano per lui, no? In modo poi da raggiungere di nuovo anche gli obiettivi aziendali desiderati. Quindi questa parte qui di leadership è veramente fondamentale. Infatti anche nella comunità di CTO Mastermind buona parte dei temi girano intorno a questo. Non è l'unico, ma sicuramente uno è importante, proprio perché non nascono in questo mondo qui i CTO di solito, anche proprio per studi, molte volte.